Si sono conclusi nei tempi dovuti i lavori di rifacimento del manto stradale in Viale Umberto, tra Piazza Colonello Serra e Viale Trento. Lavori che ne hanno comportato interventi di ricostruzione dello stato più profondo, il Blinder, nei tratti di pavimentazione più dissestata. I lavori hanno creato disagi e rallentamenti per chiusure alternate delle corsie interessate. Le linee dell'ATP sospese hanno ripreso oggi il normale percorso, prima spostato lungo corso Regina Margherita. Un intervento di manutenzione del manto stradale ha anche riguardato un breve tratto di via Bellieni, con chiusura limitata dal tracciato dei parcheggi. Dureranno fino a domani invece i lavori per il tracciamento della segnaletica orizzontale di Viale Umberto, tra il Vecchio Mercato e Viale Trento. Le attività sono in corso a traffico aperto ma con limitazione della circolazione a una sola corsia ascendente e una corsia discendente per i mezzi pubblici. Potrebbe essere bloccato l'accesso ai parcheggi per qualche ora, limitatamente il tratto interessato, al fine di permettere l'asciugatura della vernice.